Ciao a tutti e a tutti, bentornati o benvenuti a tutti i miei amici Funko Pop Addicted come me. Se mi sposto un po' così potete notare qui una parte della mia collezione. Tra l'altro se ancora non mi conoscete, non avete mai visto nulla, vi lascio nella scheda informazione gli altri video dedicati ai Funko Pop. È un'ossessione ormai da un po' di tempo e sono arrivata a quota 3,50 o una cosa del genere, quindi direi che l'Addicted ci sa tutto. E ho deciso proprio di iniziare questa rubrica, quindi ogni mese vi faccio vedere gli acquisti che faccio. Questo mese ne ho messi da parte un po' e la maggior parte mi sono arrivati grazie a una collaborazione che stiamo facendo con Pop in a Box. Tra l'altro vi lascio il mio codice sconto qua sotto che è valido per il primo mese di abbonamento, c'è un 20% quindi direi ottimo. E mi sono sempre trovata stra 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 bene, è molto semplice come tipologia di sito, poi se avete qualsiasi domanda insomma magari mi scrivete su Instagram e cerco di rispondervi. Quindi vi faccio vedere cosa mi hanno dato loro e cosa ho preso io. Devo dire che questo mese mi sono data al recupero, quindi vedrete dei pezzi sì, usciti magari più recentemente, ma altri che sono di qualche tempo fa. Comincio da quelli che ho preso su Amazon. La prima è lei, questa qui è Morticia Adams, appunto dell'Adams Family. Più o meno l'ho pagata sugli 11-12 euro. Qua dietro troviamo riportati gli altri membri della famiglia. Non li ho ancora presi tutti perché quello che mi interessava era appunto lei e sua figlia. Mercoledì Adams, tra l'altro guardate che cute la bambola senza testa. E penso proprio che prossimamente prenderò Cugino Hit perché come vedete come struttura è molto particolare e non si hanno pop del genere. Quindi appunto i primi acquisti sono loro e ogni tanto mi richiedete ma dove li prendi, dove sono i prezzi più convenienti. In realtà è pieno di siti dove li vendono. Io mi affido ad Amp, Pop in a Box, Amazon, Ebay dove cerco quelli più rari, bollinati. Insomma c'è un mondo. In queste rubriche che farò cercherò di spiegarvi il più possibile di quello che ho imparato perché comunque è relativamente poco che sono in questo mondo. Da Amp invece ho preso questo Pop qui che è stato fatto per l'ottantesimo anniversario di Batman. Infatti come potete notare la confezione è tutta nera. Qui c'è un pezzo di cartonciino che ci riporta appunto questa cosa che vi ho detto. Non è un bollino ed è meraviglioso. Davvero, davvero, davvero non potevo assolutamente farmelo sfuggire. Se guardo lì c'è il monitor del computer, se ogni volta mi chiedete perché guardo lì. Non mi ricordo quanto l'ho pagato ma probabilmente intorno anche qui 15€. Poi sempre su Amp hanno messo una sezione dove fanno arrivare dei pezzi limited edition del Funko Store europeo, non quello lì americano. Però secondo me prima o poi ci arriveremo. E ho preso questa esclusiva del segno zodiacale del toro che appunto è il mio. Come vedete c'è il bollinetto, questo qui mi pare venisse intorno ai 19€ ed è troppo carino. Guardate la fascia, ho scritto Taurus, il simbolino che tra l'altro io ho anche tatuato qua sul dito. E vi faccio vedere qua dietro ci sono anche tutti gli altri. Non mi ricordo se potete trovarli tutti su quello di Amp, però sicuramente la maggior parte. Poi questo l'ho preso sempre da Amp ma con mi pare qualche sconto che fanno perché li fanno sempre. In più io ho la spedizione gratuita perché sono iscritta al Backstage Club. E mi sono presa il Funko di Split che è un film stupendo, se ve lo siete perso correte a vederlo subito. E questo qui appunto è La Bestia. E qui dietro come vedete c'è riportato anche Edwig che voglio assolutamente prendere perché ci sono troppo affezionata. Quindi quando lo trovo lo prendo. Poi da Ebay ho fatto un super mega iper recuperone barra affare perché ho preso due Funko di Game of Thrones. Vabbè adesso che è finita la serie non potete capire i pop a quanto stanno. Io per fortuna me li sono recuperati tutti o comunque quelli che mi interessavano all'inizio ma avevo lasciato indietro qualche pezzo. E finalmente sono riuscita a prenderli, a trovarli da un rivenditore mi pare spagnolo che vendeva tutti questi pezzi a 30 euro l'uno. Quando io questo pop che vi sto per far vedere l'avevo sempre trovato sopra gli 80 se non 100-120. Perché sì, costano ragazzi, costano. E sto parlando del pop di Sansa Stark. Questo è uno dei primi che hanno fatto, è l'edizione 4. Come vedete infatti anche le forme della faccia sono diverse rispetto a quelli che fanno adesso. E sono davvero felicissima di averla trovata. Come vedete non è proprio in ottimissime condizioni ma ce la facciamo andare bene, ripeto, per 30 euro. Assurdo. Qui dietro sono riportati anche gli altri pop della Wave. E infatti ho recuperato anche Petir Bailish. Dito corto. Un altro di quelli che volevo tantissimo. E quindi eccolo qui. Non ha nulla di particolare. Ha la sua classica divisa. Però sono proprio felice. Quando riesco a fare questi affari mi sento proprio proud. L'altro di Amp ve lo faccio vedere alla fine insieme a un altro perché è un Rides. Quindi è bello grosso e lo mettiamo insieme all'altro. Quindi inizio con quelli di Pop in a Box. Prima di tutti vi faccio vedere questo perché lo cercavo da tantissimo. E mi hanno detto che quando l'ho preso era uno degli ultimi pezzi. Quindi questo è Jack Jack versione infuocato dell'Incredibili 2. Scusate il riflesso ma ve lo devo assolutamente avvicinare. Guardate che carino. Io ho quasi tutte le versioni di Jack Jack anche le esclusive. Ho anche quello con la faccia di Edna che è stupendo. Quindi praticamente credo mi mancasse solo questo. Vi faccio vedere anche gli altri che trovate nella Wave. Poi ho recuperato Severus Piton. Nomo originale Severus Snape. Di Harry Potter. So che è un pezzo molto 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 vecchiotto. Però tra tutti quelli di Harry Potter che ho non avevo ancora mai preso lui. Come non ho mai preso Minerva. C'è esempio banale. Quindi a volte mi scordo proprio i pilastri. Ma piano piano ripeto andremo avanti. Per quanto riguarda l'universo Marvel. Ho scelto Rescue. Per chi avessi visto Endgame sicuramente capirà meglio di chi o cosa sto parlando. Mi sono piaciuti abbastanza devo dire i pop di Endgame anche se mi aspettavo qualcosa di più, qualche momento più saliente. Però lei mi ispirava un casino e l'ho dovuta prendere. Del film invece che uscirà a breve nei cinema, anzi quando vedrete questo video sarà già uscito. Spider-Man Far From Home. Abbiamo MJ. Nonostante io non abbia ancora uno Spider-Man. Almeno delle nuove versioni. Ho comunque recuperato lei perché io sono molto girl power. E tra l'altro mi piacciono un sacco i pop di questa wave. Quindi probabilmente ne prenderò un po'. Universo DC invece da The Flash che è una delle mie serie preferite. È molto 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 carina sui supereroi e cose così. Il mio personaggio preferito. Non potevo non prendere Vibe H.Sisco. O Cisco H.Vibe. Vabbè avete capito. Recupererò anche Cisco visto che tra poco esce come esclusiva. Sono assolutamente pazza d'amore. Sto aspettando che mi arrivi anche i flash. Ma poi non potevo più girare questo video. Quindi lo facciamo senza di lui. Passando invece a uno dei film cartoni usciti più recentemente. Ho recuperato questi fanco di Toy Story. Nello specifico il 4. Non sono mai stata appassionata di Toy Story. Ma ho sempre fatto una grande cavolata. Perché in realtà questo mi è piaciuto tantissimo. Quindi sto cercando proprio di prendere quei pezzi che mi piacciono. Che sono importanti. Quindi ho preso lo seriffo hoodie. Tra l'altro guardate che carina. L'hardware. Tutti i disegni mi fanno impazzire. Vi faccio vedere quelli presenti per questo film. Devo recuperare Bopip. Logicamente. E voglio prendere anche Forky. Del primo Toy Story. Ho appunto Bopip. Che è assolutamente il mio personaggio preferito. Perché guardatela com'è carina. Passiamo ai due rights. Che sono gli ultimi due pezzi. Quello che ho preso da Amp. È bollinato Special Edition e Amp Pre-Release. Ed è quello di Crudelia nella macchina. Io appena ho visto che usciva questo pop. Ho detto lo devo avere assolutamente. Cioè guardate che belli i dettagli. E quindi alla fine appunto me la sono accaparrata. Mi pare di averla pagata intorno ai 40€. Ma i rights li valgono tutti. Poi guardate. È gigantesca. E ultimo pezzo sempre tema. Game of Thrones. Aspettando che escano quelli della ottava stagione. Che sono bellissimi. Li ho già presi tutti. Che ve lo dico a fare. Questo qui invece è un Recuperunes. Ed è il rights del Re della Notte. Con Izy Viserion. Adesso che hanno annunciato che uscirà il rights di Jon Snow. Con Regal. Li volevo avere tutti e tre. Mi mancava lui. Perché quello di Daenerys l'ho preso tempo tempo fa. Ed è molto 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 bello. Ed era anche l'ultimo del nostro video di oggi. Io spero tanto questa categoria di video possa piacere al più nerd come me e non. Io vado sempre alla ricerca di questa tipologia su YouTube. Quindi sono felice di poterla fare in prima persona. Fatemi sapere qua sotto se anche voi siete appassionati. Quanti ne avete. Quali avete preso questo mese. se vi siete rovinati. O se siete rimasti nel budget. Detto ciò vi mando un grosso bacione. E ci vediamo presto. Ciao.